Cari amiche e cari amici, l'uomo moderno è in valia di forze demoniache. Julius Evola, tra le miriadi di contributi importanti rispetto alle riflessioni sull'uomo moderno, diede anche un contributo importante rispetto al tema della psiche umana, dei mutamenti della psiche, incentrato sulla figura dell'uomo contemporaneo, che è in valia delle forze demoniche, che oggi definiremo demoniache, queste forze che rendono instabili, instabili relativamente a cosa? Alle correnti del proprio inconscio. Quindi un uomo privo di reali capacità introspettive, perché non consapevole dei cambiamenti nella propria psiche, cambiamenti che spesso si traducono in ossessioni, impulsioni, indipendenze. E quindi possiamo dire che l'uomo moderno è un uomo che ha come tra le principali caratteristiche quello dell'essere proprio preda del demoniaco, non solo in chiave individuale, ma anche in chiave collettiva, se pensiamo a fenomeni psichici di massa come lo sport, il calcio, perfino possiamo parlare di una demonia del sesso, di una demonia dell'economia, che ha totalmente invaso l'anima dell'uomo moderno. Dunque un uomo che non sa, è ignaro di possedere una parte superiore della propria personalità, quell'elemento spirituale, quel se, animus contrapposto ad anima, dicevano i romani, il gnos contrapposto alla psiche, presso i greci, o la mens superior contrapposta alla mens inferiore, così ne parla Sant'Agostino, lo spirito santo cristiano, gli induisti parlano di Atman, insomma una porzione superiore che è strettamente in contatto con il divino e che ne è una scintilla, un frammento che ritroviamo in ogni singolo essere umano. Dunque un elemento fondamentale perché l'uomo si connetta con il divino e non cada preda di queste correnti demoniache. Ma questa scintilla oggi è completamente latente nell'uomo moderno, nell'uomo contemporaneo, perché per una serie di vicende, soprattutto storiche, in questi ultimi secoli, l'uomo si è sempre più ridotto a un aggregato di corpo, di psiche, una sorta di marionetta instabile e sfuggente, privo di identità e il mondialismo lo priva sempre di più della propria identità. Quindi un uomo non più presente a se stesso, non più padrone di se stesso e facilmente modellabile e plasmabile proprio dalle correnti demoniache. E allora sentiamo cosa scriveva Julius Evola su Roma l'11 ottobre del 1957 proprio riguardo al tema del demonico, quindi del demoniaco. Scrive Evola Fino a ieri non vera chi non sorridesse quando sentiva parlare di demoniaco. Sembrava che in ciò si trattasse o di un semplice modo di dire o di un residuo di superstizione medievale, da donniciole, da bigotti. Eppure, da esponenti della più moderna psicologia, questa nozione è stata ripresa. Paul Tillich è un breve ma denso acuto studio sul concetto proprio di demoniaco nella sociologia, nella politica, nell'economia di oggi che ha fatto già guadagnare una cattedra universitaria nel periodo tra le due guerre. Di queste idee di Tillich hanno risentito vari altri studiosi. Qualche volta in interferenza con la cosiddetta psicologia del profondo e con certi rami della psicanalisi. E a questo riguardo vi è soprattutto da menzionare Carl Gustav Jung. Poi è interessante che nel famoso processo di Norimberga contro i capi del nazionale socialismo, il concetto di demoniaco, preso proprio nell'accezione di cui stiamo parlando, trovò modo di fare apparizione fra le dissertazioni giuridiche. e nelle sue nuove assunzioni il concetto di demoniaco è stato naturalmente liberato dai precedenti rivestimenti teologici, morali, e non viene più riferito a quello che procede da un'entità malvagia, quasi personale, intenta ad opporsi al creatore e a trovare gli uomini, dunque il diavolo, Satana. No. Demoniaco, nella nuova psicologia, è una designazione che si applica a determinate forze, determinate energie che possono manifestarsi nell'essere umano e vuole semplicemente caratterizzarne la natura e il modo d'azione nei confronti del principio della personalità. La premessa è una particolare concezione dualistica della stessa personalità. Nell'uomo è una parte formata, chiara, intellettuale e una parte informe, caotica, vitale, più o meno collegata col dominio delle forze organiche e collettive sub-personali, pre-personali. e quando determinate antiche dottrine riconoscevano un dualismo tra spirito e anima, tra essere e vita, tra principio maschile e principio femminile dell'essere umano, si rifacevano grosso modo a questo tipo di idee. Jung, in una certa misura, le ha riprese quando ha parlato di un antagonismo tra animus e anima. La psicologia moderna ha messo in evidenza l'importanza che ha la zona sotterranea, cioè il subconscio, la zona vitale della psiche, che corrisponde al secondo principio. L'essenziale è però stabilire che questa zona resta una profondità anteriore alla forma e allo stesso io e che l'io, pur avendola come substrato animatore dinamico, quando è un io personale ben sviluppato non si esaurisce assolutamente in questa zona e la condizione normale è quella in cui agisce la tendenza dell'io ad appartenersi, nel senso di essere padrona di sé, essere per sé, quindi essere libero, non staccandosi da quelle forze, ma integrandole e contenendole entro le loro forme, dunque equilibrandole, ordinandole alle sue facoltà più alte. Può però accadere che quest'ultima tensione che fa parte dell'uomo, un essere personale e libero in senso superiore, a un certo punto si tende a dissolversi, ad allentarsi e quindi può accadere che si verifichi di una specie di frattura interiore, a volte neanche avvertita per via della quale l'io cade in uno stato di passività che lo riapre e lo restituisce alle forze pre-personali, alle forze vitali del proprio essere. E' allora che si manifesta il demoniaco, è la irruzione della supposcienza di una forza che prende il posto del vero io e lo asserve, liberandolo per così dire da se stesso. L'io si identifica con questa forza che non ha una forma, non ha un limite, ma è intensamente vitale, per cui spesso da questa regressione si trae una specie di sensazione estatica, si sperimenta un'esaltazione, un trasporto che spesso rendono capaci di azioni, di sforzi e imprese al di là dell'ordinario. ma in questi casi non è più veramente l'io inteso come essere libero ad agire. Il retroscena è una distruzione interna della forma personale, un'abdicazione. Quando il demoniaco aveva ancora carattere teologico e spettacolare si parlava di fronte a fenomeni certamente diversi, enigmatici, ma non di diversa struttura, ebbene si parlava di possessione oppure ossessione, di invasamento. Si parlava anche di perdere la propria anima e queste sono nozioni il cui contenuto oggettivo e neutro, come si vede, può restare valido con riferimento a comportamenti che non riguardano il mondo delle streghe, degli sciamani, dei medium e neanche il settore patologico dell'isterismo, della schizofrenia, della scissione, della personalità, ma che possono dirsi diffusissimi nello stesso mondo contemporaneo nel cosiddetto mondo progressista. E' per questo che l'uomo moderno ha un ridottissimo potere di introspezione, non discerne quasi più i mutamenti sottili di polarità che si verificano nella sua vita psichica o per dir meglio non gli dà peso, non ne scorge in retroscena e Jung dice giustamente che il posto degli antichi spiriti e demoni oggi è preso dagli ismi, ossia dalle varie correnti collettive con desinenze in ismo. L'uomo moderno si apre a queste correnti, se ne fa trasportare, trascinare, ne viene coinvolto, ne trae una più intensa sensazione di vita come nelle ossessioni. Oppure si tratta di situazioni in cui non è tanto l'io che ha un'idea ma è un'idea che si serve del dio, in un certo senso lo possiede. Il mondo politico, della demagogia, del fanatismo partitico, in alcuni suoi aspetti deteriori, perfino del nazionalismo, presenta proprio un'interessante materia a questo riguardo. Tale esame potrebbe essere esteso a certi fenomeni di infatuazione collettiva popolare come per esempio quelli connessi con lo sport, con il calcio, fenomeni nei quali il cedimento interiore dell'io per essere momentaneo, intermittente e ancora meno avvertibile non ha tuttavia una struttura diversa da quella dei casi più acuti ma si può andare ancora oltre. Tutta la parte che hanno il sesso, la donna nel mondo d'oggi quasi nei termini di una sorta di intossicazione erontica cronica e di un continuo eccitante psichico ha fatto giustamente parlare di alcuni di una moderna demonia del sesso. Ancora un altro settore da considerare è quello dell'economia. Basta riandare alla magistrale analisi delle forme estreme dell'alto capitalismo fatta da Werner Sombart a questo riguardo. Sombart ha usato l'immagine del gigante scatenato e le emanciparsi dell'economia e dei processi economico-produttivi che invece di servire l'uomo lo riducono al loro strumento. Praticamente e psicologicamente si tratta di alcune figure di capitalisti che finiscono col diventare schiavi dei processi da loro stessi creati e alimentati e che non possono più essere frenati tanto che ha da apparire dei semplici quasi ascetici moltiplicatori e amministratori della ricchezza a cui sacrificano fanaticamente libertà felicità senza badare alle calamità alle crisi alle distruzioni interne che spesso ne derivano in quadri talvolta intercontinentali. Quello che Sombart ha giustamente stigmatizzato come una parola d'ordine dell'economia di oggi fiat produzio pereat omo non può che caratterizzare un altro aspetto di una vera demonia nel senso specifico psicologico che qui ci siamo sforzati di chiarire. Da tutto ciò appare chiaramente che la fecondità e che la ripresa di un concetto che sembrava relegato nell'inventario di un'epoca sorpassata può avere perfino per lo studio della vera fisionomia del mondo moderno. Bene cari amici e cari amici come vediamo questo tipo di riflessioni è estremamente attuale così come vediamo l'aspetto demoniaco dell'economia che ha prevalso anche sull'aspetto delle relazioni umane ha prevalso su tutto tutto è basato oggi sulla economia e per questo possiamo dire che viviamo in un mondo veramente invertito sovversivo e appunto demoniaco bene cari amici e cari amici queste cose le scriveva Evola nel 1958 un pollice su per il mio lavoro e sempre incollati al decimo toro un caro abbraccio a tutti Marco Cosmo un po' Grazie.